Questo video riguarda i migliori tre canestro da basket. Il vincitore della qualità è il ZYYW canestro basket. Altezza regolabile L'altezza del tetto da basket può essere regolata da 230 cm a 305 cm, regolare l'altezza a mano. Backboard di basket resistente Il sistema di basket è dotato di una densità di 110 cm, 44 pollici ad alta densità PVC backward di resistere a keeping e cracking, un paraurti che assorbiva gli shock e una rete per tutte le stagioni. Questo cerchio da basket esterno ha una grande base, può essere riempito con 130 kg di acqua o sabbia per garantire stabilità e sicurezza per ogni scatto. Lo stoccaggio portatile e basket con due ruote di trasporto, il supporto per il cerchio di basket portatile può essere facilmente spostato nella posizione desiderata. Per il cerchio di basket portatile per interni e esterni è conveniente per la tua famiglia e i tuoi amici giocare all'interno e all'esterno. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il DIMREX canestro basket. Il basket è uno sport solo da palestra? Non con l'impianto da basket duraturo composto da uno stabile tubo d'acciaio e un tabellone grande 112 x 72 cm in acrilico e plastica. La rete blu, bianca e rossa in nylon è resistente, nonostante la pioggia, il sole e il vento ed è un omaggio agli Stati Uniti d'America dove nel 1891 è stato inventato il popolare sport. In base alla vite di regolazione, il supporto si lascia regolare velocemente in altezza tra 230 e 305 cm. La massima altezza di 3,05 metri e il diametro dell'anello di 45 cm corrispondono esattamente al regolamento internazionale. I bambini e i tuoi compagni di squadra potranno giocare con le stesse condizioni dei grandi professionisti di tutto il mondo. Il canestro da giardino è adatto per diverse varianti del gioco, one-on-one oppure a squadre, ed è lo strumento di allenamento ideale per principianti e professionisti. Il vincitore del premio è il ProSport Canestro Basket. Imposta l'altezza in base al livello delle tue partite di basket. Con un sistema di regolazione telescopico facile da usare, puoi passare l'altezza del canestro da un'altezza adatta ai bambini a un'altezza ufficiale di 3,05 metri. Grazie alla regolabilità, questo canestro da basket è adatto a tutte le età e livelli di abilità. Che tu sia un giovane principiante o un professionista adulto o qualsiasi cosa tra i due, questo canestro da esterno sarà adatto a te. Il ProSport Canestro Basket con base è dotato di un bordo pesante in stile classico e di una rete in nylon per tutte le stagioni. Questo canestro basket esterno con tabellone è supportato da una robusta base portatile. Riempi la base con sabbia o acqua per la stabilità e gioca oggi. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.